Per me Padre Guardiano è un pochino il fra Cristoforo dei promessi sposi di Manzoni. C'è tutto il periodo dove Verdi stesso si avvicina al mondo manzoniano, con grande ammirazione, tanto che scriverà poi un requiem per la morte di Manzoni, quindi ama molto questo tipo di poetica, di drammaturgia. Molti considerano la forza del destino i promessi sposi di Verdi, di fatto ci sono molte analogie. Ecco, Padre Guardiano mi piace intenderlo come un uomo da un passato difficile, un passato, probabilmente anche un passato torbido, ma che in qualche modo si redime, trova una sua dimensione nel rinchiudere il proprio corpo e la propria anima in un vestito da frate. Quindi sarà un monitore, sarà un personaggio che è il cosiddetto inodore di santità, però alla fine, nonostante che si trattano di decisioni difficili, accoglierà Leonora. È la chiesa che accoglie, la chiesa della grande riforma di Pio IX, insomma, il periodo è quello. A livello drammaturgico questo personaggio diciamo che non offre tanto rapportato alla lunghezza degli altri ruoli, perché non è un ruolo lungo, ma è un ruolo che nel non essere così esteso, ma comunque compie una parabola drammaturgica importante. Quello che io vorrei riuscire a comunicare al pubblico che ascolta è proprio questo percorso del Padre Guardiano, cioè un uomo che ha questo passato che nessuno conosce, ma che dovrebbe in qualche modo trasparire nel suo dipanare il personaggio. Vocalmente è un personaggio sicuramente impegnativo, di basso cantante, dove l'estensione della voce ricopre praticamente quasi tutte le due ottave. È una parte del verde maturo, quindi una scrittura anche ammorbidita, non è mai una scrittura a guzza. Ecco, però ci sono dei momenti dove si vede che quest'uomo ha qualche durezza, qualche asprezza nel carattere, e questo mi piacerebbe renderlo anche a livello vocale. In questo poi concorrerà naturalmente la collaborazione col direttore d'orchestra e con il regista per cercare di dare un senso compiuto alle idee. La regia è interessante perché comunque si fanno degli allacci nel modo di esprimere il personaggio anche a situazioni vere, cioè Verdi che parlava di inventare il vero in qualche modo. Io trovo che sia una regia che non punta sull'aspetto realistico, ma è reale, cioè nel senso che è concreta. Ed è concreta come la musica di Verdi. In fondo la musica di Verdi ha una sua concretezza nella spiegazione drammaturgica della poetica e del linguaggio delle parole e del linguaggio stesso della musica. Per cui credo che sia un percorso che lui ha trovato anche un po' avendo una compagnia diversa dalla volta precedente quando questo spettacolo fu proposto. E quindi per ognuno di noi ha creato qualcosa che aiutasse anche a una ricerca della verità, della verità interpretativa. Lo dico sempre, per me il teatro regio è un po' come, non dico come se fosse casa mia perché sarebbe non corretto, non politicamente corretto perché tutto sommato il teatro appartiene a una comunità, appartiene alla mia città, appartiene alla mia gente. E quindi chiaramente esibirmi, cercare nel miglior modo possibile di dare la mia, fra virgolette, se così si può dire, arte alle persone che mi sono vicine, alle persone che mi hanno visto crescere, a chi mi apprezza, anche a chi non mi apprezza, ma insomma cercare di avere questo dialogo. Io penso che sia forse l'unico teatro al mondo che mi permette di avere questo rapporto così diretto, che può essere anche di critica, può essere anche non necessariamente un rapporto favorevole, però è un rapporto sincero, sano, che io riscontro solo nella mia città. Poi è chiaro che ci sono teatri dove uno si trova meglio, si trova peggio. Diciamo che per me il teatro regio di Parma è sicuramente un teatro speciale. Luca, io lo conosco da quando ha cominciato la sua carriera, ha avuto anche lui un percorso molto interessante a livello tecnico, ha cambiato repertorio, quindi io con Luca mi trovo bene, abbiamo due caratteri diversi, però sono caratteri che in qualche modo si compensano bene, per cui è sempre bello lavorare con colleghi con cui hai un bel rapporto anche al di fuori del palcoscenico, mi viene in mente anche Roberto De Candia, ma tutto, questa è una compagnia di amici e spero che questo concorra a creare un'unità ancora più forte.